Ciao Dugio, siamo qui a Scoglitti, guarda che splendore, 30 settembre ancora, è caldo, guardate che scaggio spettacolare che c'è pure Cercoglitti, oltre alla Pizzusa, è una bellissima piazza, c'è anche quella di Scoglitti in provincia di Recusa, con un mare cristallino, bello, guardate e l'acqua ancora calda, guardate che spettacolo, wow, 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 che spettacolo Puglio, guardate che bello, presentiamo, evviva la Sicilia, la terra più bella del mondo, l'isola più bella del mondo, si chiama Cicilia, ciao. Ciao Dugio, che aggiungere a quello che è detto, bella la Sicilia, 30 settembre e siamo qui, alla Pizzusa, la spiaggia che tu conosci a noto, guarda l'acqua, che delizia, andiamo. La politica trasparente. Dicono che a settembre non si può andare al mare, che finisce l'estate e incomincia l'ottunno, ma quando mai, guardate, guardate, e in più, guardate, 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 che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che adesso, il tuffo.